Un talk sul ruolo degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico, un alexio magistralis del noto giornalista Roberto Giacobbo e tanti altri momenti di divulgazione scientifica ed intrattenimento. È nutrito anche quest'anno il programma della Notte Europea dei Ricercatori, iniziativa promossa dalla Commissione Europea a cui aderisce l'Istituto Tumori Giovanni Paolo II, in programma domani a partire dalle 19 all'Auditorium UC Cinemas di Bari. Per il terzo anno l'Istituto aderisce all'iniziativa europea che celebra non soltanto l'attività di ricerca ma è anche un momento di confronto e di divulgazione scientifica, ma soprattutto è anche un momento di festa, è un momento in cui i ricercatori, i medici, gli infermieri destinati e i deputati alle attività di ricerca in questo istituto enunciano quelli che sono i progressi legati alle attività di ricerca scientifica svolte all'interno del nostro istituto, ma sostanzialmente mettono in condivisione anche quelli che sono gli esiti della ricerca stessa. Tra i protagonisti del dibattito sulla ricerca tra innovazione, assistenza e didattica, i nomi autorevoli del vice direttore scientifico dell'Istituto barese Raffaele Massafra, il rettore dell'Università di Bari Stefano Bronzini, il presidente dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca Antonio Uricchio e il rettore dell'Università Pegaso Pierpaolo Limone, mentre il segmento più spensierato dell'evento sarà affidato al duo composto dai comici Raffaello Tullo e Martina Salvatore, oltre alla performance teatrale di Sergio Rubini. Soprattutto è anche un momento di condivisione ludica perché con un concerto, con un momento anche ironico, un momento di spettacolo vero e proprio, noi vogliamo festeggiare un momento che è al contempo riflessione, ma anche un momento di gioia perché con la ricerca noi diamo una speranza di vita ai nostri pazienti oncologici.